elettorale, siamo a un passo dal ballottaggio, siamo a un passo anche domani sera ore 19, ve lo ricordo, dal nostro appuntamento in diretta dal Lido di Villa Olmo, Lido Bice di Villa Olmo, dove vi aspettiamo, perché potete intervenire anche voi e potete venire insomma a sostenere i due candidati. Questa mattina abbiamo avuto, per rappresentare la lista di Barbara Minghetti e Patrizia Lissi, questa sera abbiamo qua in studio invece la lista rapinese, Fulvio Anzaldo, il capolista che saluto e saluto prima ovviamente Francesca Romana Quagliarini della lista rapinese, ciao Francesca, ben ritrovata e salutiamo anche Fulvio, ciao Fulvio. Ciao, ciao Marco, grazie, grazie l'invito, un saluto agli ascoltatori e ai telespettatori. Ricordati che ti sta guardando rapinese, ecco ricordati, salutate anche rapinese. Allora è il momento della vostra lista, è il momento di parlare anche di che cosa avete proposto ai comaschi, comaschi che nel primo turno vi hanno dato fiducia, Francesca sentiamo anche te, questa campagna elettorale che ti ha visto protagonista, a sorpresa se vuoi perché poi all'inizio ti ha presentato proprio qui rapinese e devo dire che poi piano piano ti sei guadagnata degli spazi e lui ti ha, nel caso ovviamente i comaschi vi danno fiducia, ti è già designata come futuro assessore, giusto? Sì, assolutamente sì. Se possibile Marco io vorrei iniziare parlando di un tema di cui si sta discutendo molto in questi giorni e per me è un tema molto molto importante, quindi se possibile vorrei dedicare questi minuti iniziali a questo aspetto. Ne hai facoltà Francesca, ovviamente. In questi giorni ho sentito spesso dire io voto una donna, la frase io voto una donna io la reputo profondamente sessista. Secondo me nel 2022 la scelta non deve basarsi sul fatto di votare un sindaco uomo piuttosto che un sindaco donna. Il 26 giugno siamo chiamati ad andare a votare, quindi abbiamo il diritto e il dovere di votare e io baserò la mia scelta su alcune caratteristiche quali la costanza, l'esperienza, sul fatto di ritrovarmi nei progetti di una persona e non sul fatto di votare un uomo o una donna. Io voglio una società che si basi sulla meritocrazia, quindi non voglio dover basare la mia scelta su delle caratteristiche fisiche, caratteristiche genetiche che una persona non si è conquistata. Quindi per me il fatto che Alessandro Rapinesi sia un uomo o sia una donna non ha assolutamente importanza. A proposito ci tengo a ringraziare le 161 persone che mi hanno votata, che mi hanno dato la loro preferenza e mi auguro con tutto il cuore che non mi abbiano votata perché sono una donna, ma che mi abbiano votata perché credono nel mio potenziale, credono nel mio pensiero, nel mio mettermi in gioco. E se vogliamo parlare di donne vorrei parlare delle 17 donne che compongono la nostra lista, più donne che uomini. Abbiamo 17 candidate consigliere e 15 candidati consigliere. È vero, è vero. Quindi l'aveva sottolineato anche il vostro candidato sindaco quando era venuto qui a presentare. Quindi è vero. Sì, siamo la lista con più donne. Sì, nonostante la Minghetti sia supportata da 5 liste, noi soltanto da una abbiamo più donne. In tutti questi mesi di campagna elettorale nessuna di noi ha mai giocato la carta della donna. Non ho mai sentito dire votatemi perché sono una donna. E questo secondo me è un aspetto davvero molto importante perché in questo modo, usando l'espressione io voto una donna, si rischia di buttare via anni e anni, decenni di battaglie per i diritti civili. Intanto sono tanti, stavo guardando, scusami perché sono tantissimi quelli che vi stanno salutando. Dopo lo vedete Valerio, Marinella, Fulvio, Dino, Ciao, Clara, Nadia, Lorenza, brava Francesca. Allora ecco, tra l'altro, poi poi ne approfitto perché in effetti Francesca è molto giovane e l'avevo già avuto modo di dirlo, c'è Massimo che ti saluta Fulvio, e dicevo l'avevo già avuto modo di dirlo l'altra volta quando era venuta qui a presentarsi per la prima volta, non è facilissimo che una ragazza così giovane si presenti in modo anche spigliato. Vuoi magari spiegare che cosa fai tu Francesca nella vita? Sì, io ho 21 anni e studio giurisprudenza all'Università degli Studi dell'Insubria. Quindi ovviamente è la prima tua candidatura. Prima candidatura, prima esperienza politica di qualsiasi genere e ne sono veramente felice. Ancora adesso faccio fatica a realizzare l'impresa che abbiamo compiuto perché abbiamo superato i tre partiti più importanti della storia di Cuomo, cioè Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Siamo al ballottaggio, dobbiamo superare un unico partito rimasto e io faccio ancora fatica a realizzare l'impresa che abbiamo compiuto. Quindi vi prego fate in modo che questo sogno non finisca, aiutate a portarlo a termine. Ecco un'altra cosa Francesca, poi passiamo ovviamente a Fulvio. Ho chiesto anche ai vostri rivali ovviamente in questa competizione, lo spettro dell'astensionismo. Ti preoccupa, vi preoccupa perché in effetti il 44% al primo turno direi che è basso. Domenica siamo due settimane dopo, in pieno clima estivo. Francesca, sentiamo... Sì, c'è la possibilità che vengano a votare ancora meno persone. Io vorrei fare un appello ai giovani perché questo è il pubblico che mi sento di rivolgermi e noto un grande disinteresse. Molte persone della mia età con cui ho anche modo di parlare non hanno interesse nella politica, non hanno interesse in questa votazione. Io invece credo che sia uno dei pochi momenti in cui abbiamo la possibilità di esprimerci, di dire la nostra opinione e quindi vorrei fare un appello a tutti i ragazzi della mia età e dire possiamo veramente cambiare le cose. Specialmente in queste elezioni avete una grande possibilità. Io ho fiducia nei comaschi, spero che il 26 giugno facciano la scelta giusta. Se i comaschi sceglieranno Rapinese che cosa farai assessore alle politiche giovanili? Ok, mi sembra abbastanza opportuno visto che è una ragazza giovane. Avvocato Anzaldo. Ecco, se guardiamo il dato anagrafico. Tu sei un po' più vecchio. Esatto, mi sento veramente vecchissimo. Poi la sentiamo parlare e mi sento un ragazzino ripetente delle medie. È brava, è brava Francesca. È straordinaria. Peraltro l'altra sera mi ha detto che aveva appena superato l'esame di diritto penitenziario. Abbiamo parlato un attimo, l'ho fatto anche qualche domanda e ne sapeva sicuramente molto più di me. Straordinaria Francesca, io vorrei iniziare con un doppio ringraziamento. Uno a voi, perché io ho apprezzato moltissimo quello che avete fatto voi in questa campagna elettorale, il vostro lavoro. Ti ringrazio molto, non era concordata questa cosa. No, no, però guarda, veramente da esterno l'ho valutato molto positivamente. Poi ti dirò perché. È stato sicuramente faticoso per voi perché avete dato voce a tutti, anche i candidati consiglieri, avete consentito a tutti i candidati di farsi conoscere. Credo sia giusto. Non è stato sicuramente semplice con i camper, spostamenti, dibatti, ti avete consentito dialettica e questo è il miglior sistema per difendere la democrazia, per consentire a tutti di rapportarsi, di esprimere le proprie idee e poi costruire così un voto consapevole. Quindi questo ti ringrazio. Il secondo ringraziamento, approfitto di questi microfoni e per tutti coloro, tanti, che mi hanno accordato nuovamente la loro preferenza. Esatto, e quindi comunque sia tu sei già in consiglio comunale. Esatto, sono stato eletto nuovamente, ho confermato il risultato, l'ho anche migliorato. Quanti voti, Francesco? 373. Ecco, sei stato, se non sbaglio, il terzo più votato, giusto? Il terzo più votato in assoluto, questo diciamo onora e onora sicuramente. Hai superato i voti ottenuti nella precedente, la volta scorsa. In un turno in cui di preferenza effettivamente non ce ne sono state molte. Anzaldo è un mito, Ramona dice le clip con Alessandro sono il top. Poi dopo magari se vuoi parliamo anche di questa cosa che alla fine... Che ha caratterizzato anche questo il mandato. Esattamente, alla fine l'altro giorno, Rapinese, in un posto ha detto io toglietemi tutto ma non toglietemi il mio Anzaldo. Allora, è difficile, è faticoso, è stimolante? Com'è cercare di a volte smussare gli angoli, visto che la tua professione... È stato piuttosto osmotico il nostro rapporto perché effettivamente lui ha valorizzato me e mi ha consentito di fare questa straordinaria esperienza politica che andrà avanti. Io non so se ho portato beneficio a lui, lui dice così e mi piace pensarlo. Sì, l'ha detto pubblicamente. È stato un mandato in cui anche dal punto di vista tecnico ci siamo impegnati tantissimo, abbiamo anche costruito diversi documenti molto importanti, è stata un'opposizione molto costruttiva, molto attenta e molto faticosa. Poi abbiamo usato quell'occhio che è l'ironia, che secondo me è un altro modo per raccontare la verità, quindi scherzando sopra dei temi ma portandoli all'attenzione delle persone che hanno apprezzato anche questo tipo di comunicazione. Ecco, proprio di ironia, ricordo ai nostri telespettatori, domani mattina alle 8.30 ci sarà ancora Alessandro Rapinese, doppio appuntamento questa settimana abbiamo offerto ai due candidati sindaci, uno oggi lo ha, Barbara Minghetti lo ha, per così dire, concesso a Patrizia Lissi, era un suo diritto, lo ha sfruttato ovviamente, Rapinese invece tornerà ancora domani mattina, visto che ieri mattina è stato, per così dire, ironico nelle sue, in alcune sue affermazioni e quindi vabbè, finché c'è l'ironia va bene, quando si va oltre ovviamente no, però devo dire che io ho rivisto tutta la puntata e devo dire che ho colto sicuramente un po' di verbi ironica, non so se l'hai vista tu la... Sicuramente, l'ho visto anch'io, è anche giusto essere un po' graffianti, devo dirti che ha affrontato effettivamente lui dei temi abbastanza cruciali e voglio dire, sull'aspetto che riguarda i paventati ricorsi, io vorrei specificare anche questo, perché mi sembra doveroso farlo. Siamo a metà, è a dieci minuti ancora. Allora, abbiamo sentito esponenti politici in rilievo annunciare ricorsi ancora prima di conoscere i motivi sulla base dei quali questi ricorsi sarebbero dovuti basare. Questo, a mio modo di vedere, non fa che aumentare la sfiducia da parte dei cittadini che hanno dimostrato già con questa scarsa adesione, con questa scarsa partecipazione al voto. È ovvio che è diritto di ciascuno di noi, di ciascun cittadino, far valere i propri diritti e i propri interessi legittimi innanzi a un giudice, però lo si fa a ragion veduta se vedi un atto che effettivamente ha leso i tuoi diritti. Annunciarlo ancora prima di avere contezza di questo pare rispettoso proprio nei confronti delle istituzioni, anche da parte di chi si proclama comunque nazionalista, fedele a quelli che sono i valori dell'Italia. E questo delegittima anche tutti quei signori che hanno fatto parte, che hanno fatto gli scrutatori, i presidenti di seggio, in situazioni sicuramente di difficoltà perché non tutti certamente hanno lavorato male. Ovviamente se ci sono dei motivi è giusto ed è legittimo. Delegittimare a priori lo trovo scorretto e allontana la gente. Cosa allontana anche la gente? Il fatto di vedere esponenti di spicco di partiti che adesso assumono delle posizioni piuttosto ambigue per quanto riguarda il voto al ballottaggio. fanno un parallelismo con quanto avevamo detto noi alle scorse elezioni, allorché c'è stato il ballottaggio tra cento destra e cento sinistra, noi avevamo detto, non avevamo dato indicazioni di voto, avevamo detto noi non andiamo. Libertà. Libertà. Ma è evidente che la nostra politica, che si basa su una contestazione di quello che è il sistema partitico che ha rovinato la nostra città, non poteva consentire a noi di esprimere un parere positivo nei confronti dell'uno o dell'altro. Qui invece assistiamo al paladosso di partiti di centrodestra che con questo atteggiamento ambiguo e quasi un invito al non voto stanno sostanzialmente favorendo un partito storicamente avversario. E anche questo, a mio modo di vedere, allontana il cittadino da una politica partitica. Cittadino che io sento però sempre più entusiasta nei nostri confronti. Perché a Fulvio vi date del lei dopo anni di conoscenza? Ci domanda Guido. Tu ero appinese. Niente, è venuto all'inizio, nei video, poi è diventato un must, ma non solo nei video, ce lo diamo anche... Cioè voi vi incontrate... Noi ci diamo del lei. Francesca, ce lo confermi? Posso confermare, sempre del lei. Ci danno del lei? Sempre del lei, sì, sì, assolutamente. Con te invece da del tu? No, no, sì, per adesso sì. Per adesso sì, ok, perfetto. Senti, no, allora, hai parlato di questo mondo dei giovani, no? In effetti questa è una cosa assolutamente importante perché tu rappresenti questa fetta del mondo giovani. Le dicevi, ecco, io vorrei che magari i giovani capissero l'importanza del voto, magari sono lontani, magari sono distanti, distratti, non so neanche se sanno che ci sono le lezioni alcuni a Como. È vero, purtroppo sì. Ecco, è vero questa cosa. Sì, infatti io un aspetto che ho sempre apprezzato molto di Alessandra è la sua concretezza e credo che per noi ragazzi questo sia fondamentale. Infatti se ne avrò la possibilità, le risposte che vorrei dare ai ragazzi sono risposte concrete. Infatti ciò che ne vogliamo fare, ciò che è inserito nel programma, sono tutte cose concrete. Per esempio per i ragazzi, sia io sia Alessandra abbiamo avuto la possibilità di ribadirlo più volte, riteniamo che le risposte che debbano essere date sono tre. I giovani innanzitutto hanno bisogno di giovani, i giovani hanno bisogno di fare sport e hanno bisogno di luoghi di incontro. Luoghi di incontro che possono consistere sia in aree verdi, che caratterizzano la nostra città, adesso purtroppo si trovano in stato di degrado e abbandono, sia in luoghi in cui possono studiare. Per esempio, come abbiamo detto prima, io sono una studentessa e mi piacerebbe molto avere la possibilità di avere maggiori aule studio, che comunque rappresentano un modo per stare insieme, un modo di aggregazione che specialmente secondo me, in seguito alla pandemia, si è perso molto questo concetto dello stare insieme. Ne ha già parlato Colombo, ma volevo ribadirlo perché secondo me è un progetto molto importante, l'idea di inserire delle aule studio all'interno del Palazzo Natta. Questa è soltanto una delle piccole cose che vogliamo fare e che secondo me potrebbero anche fare in modo che i ragazzi si riavvicinino alla politica e abbiano passione, abbiano interesse e fiducia soprattutto. Sì, beh, non è facile una ragazza giovane con questa passione, con questa determinazione. È quasi un'anomalia, ma è un'anomalia in senso anche positivo, no? Ti sei presentata, ci hai creduto e adesso sei qui a giocarti questo ballottaggio, ovviamente. Hai già parlato dell'astensionismo, del rischio-astensionismo, di che cosa ovviamente voi vi proponete. Per i primi giorni, concretamente, ecco un'altra cosa che poi ti voglio chiedere, prima di chiudere con Fulvio, quali sono le promesse che potete rassicurare Comaschi di poter concretamente portare a termine, Francesca? Allora, tutto ciò che è inserito nel nostro programma sono cose che noi sicuramente realizzeremo. Ripeto, la concretezza è ciò che ci contraddistingue. Quindi tutto ciò di cui abbiamo parlato, tutto ciò di cui parla Alessandro giorno dopo giorno, sono cose che noi abbiamo valutato e sono cose che possiamo e sicuramente realizzeremo. Quindi vorrei dire che non c'è nessun dubbio su tutte le cose che abbiamo fatto. Non facciamo promesse che non possiamo mantenere. Quindi se ne avremo la possibilità, realizzeremo tutto ciò di cui abbiamo parlato. Diamo fiducia ai giovani. C'è il papà di un sindaco giovane che è Eros Robba di Garzeno, che dice ovviamente ti saluto e anche Eros ti saluta. C'è il suo papà che appunto vi sta guardando. Beh, anche lui in effetti è un sindaco tra i più giovani del nostro territorio. Allora, siamo a tre minuti e mezzo. Dalla fine vuole chiudere lei, avvocato Anzaldo? Grazie, ci diamo lei anche noi. Va bene, mi sembra giusto. Come in tribunale. Come in tribunale. Perfetto, allora facciamo questa ringa finale. No, allora, il nostro progetto è obiettivamente vincente perché ci pone come concreti, autonomi, indipendenti. La nostra lista è compatta ed è composta di persone in realtà che vive il quotidiano e che conosce i problemi della città perché li vive ognuno nel suo settore e ognuno anche nei suoi quartieri. La nostra autonomia, la nostra indipendenza, a differenza di quello che è stato finora ci porrebbe anche come interlocutori liberi, indipendenti e paritetici e con soddisfazione di tutti quanti anche dei nostri interlocutori a differenza di quello che è avvenuto fino adesso in cui la nostra amministrazione ha dovuto subire le decisioni di altri vedi, università, sanità e quant'altro. La coalizione centrosinistra si compone di anime troppo diverse e vedremo quanto saranno spaccati su temi decisivi. Abbiamo visto già nel passato, sarei curioso di vedere su temi come le partecipate, come la CSM e quant'altro. Però io quello che voglio dire, visto che ci sono problemi, esatto, allora dedico questo tempo a illustrare come si vota perché effettivamente pare che non sia così chiaro. Lo mostro, questo è il facsimile della scheda elettorale. Tieni un po' così perché c'è un po' di riverbero. Va bene così, questo è il facsimile della scheda elettorale e in questa circostanza non bisogna assolutamente esprimere preferenze per il candidato consigliere, questo è avvenuto già la volta trascorsa, non si deve scrivere nulla, è sufficiente barrare sul candidato sindaco. Ok, perfetto, in questo caso ovviamente il nome è questo. Abbiamo posto sulla destra, anzi no, sulla scheda della sinistra. Sì, sì, esatto, perfetto. È un facsimile, ovviamente lo facciamo vedere ai nostri telespettatori, c'è la facoltà di poterlo fare, quindi lo possono fare anche i vostri rivali domani quando saranno qua in studio con noi. Esattamente, non bisogna mettere altri singoli, altri segni. Quindi solo sul nome del candidato singolo per i radioascoltatori nel rettangolo dove è scritto il nome del candidato singolo. E tutto questo, Fulvio, credo possa portare, e mi auguro, a accorciare i tempi. La volta scorsa ci siamo trovati nel cuore della notte in giro per capire se i seggi erano chiusi o non erano ancora chiusi, questa volta si dovrebbe chiudere prima. Decisamente, non ci sono neanche i referendum, quindi dovremmo roccavarci la prima, si spera, nel modo da noi auspicato. Ovviamente, va bene, io vi faccio un grosso in bocca al lupo, ovviamente come l'abbiamo fatto anche ai rivali di Bellupo, e vi aspetto domani sera, c'è la sfida a Villa Olmo, anche per un aperitivo, venite a prenderlo in nostra compagnia, ci fa davvero molto piacere. Molto volentieri, noi poi saremo anche alle 8.30 in Largomiglio di fronte al liceo Volta per un comizio e per incontrare nuovamente i cittadini. Grazie a Fulvio Ansaldo e grazie a Francesca Romana Quagliarini. Grazie ragazzi davvero, è un grosso in bocca.